eccoci in una nuova puntata di Minecraft come incrociarsi abbiamo qualche problema di coordinazione bene allora vediamo un po' volevo appiantare in questa puntata finalmente quegli alberelli di gomma che servono hai delle ossa del bombil che sto andando a prendere guarda il bombil è a posto e dov'è l'ha posto? lo troverai comunque ho due scheriche che si nascondeva all'ombra degli alberi ok brava qui potenziamo io quasi quasi il clay lo prenderei perché ci può servire l'alloy furneis quindi mi farei una palilla dove la posso prendere dei bastoncini me li faccio allora facciamoci 4 bastoncini e ci prendiamo la facciamo di zaffiro qua ok una bella pala di zaffiro 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 la 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 sei strana anche tu grazie sempre di più bene direi che come zona comunque è anche più vivibile brava hai fatto una hai avuto una buona idea a metterne un po' qui davanti allora prendiamo il clay che purtroppo è sempre qui sotto a me non ce l'abbiamo meglio averlo scomodo che non averlo ok 1 2 3 4 5 se non fosse quando un esso d'acqua scava in un modo veramente lentissimo è una cosa noiosissima anche secondo me non so chi l'abbia inventata capisco che jeb de jebbis proprio ma sarà jeb de jebbis che l'ha inventato nocce de nocis eh ma nocce ma finchè c'era nocce le cose andavano bene non sono più le mezze nocce no no nocci le mezze noci di una volta stai che sto muovendo no sto muovendo mi fame? no perchè sto negando ci posso credere muoierai uuuu allora io questa cosa è una delle cose che odio di più di minecraft in assoluto perchè quando uno sta annegando sto annegando anch'io per guardare te quando uno sta annegando deve fare il colpo che va in basso dai è una cosa fastidiosissima non fatelo ok allora io direi che questa zona qua forse è ancora un pochino ampliabile però dato che adesso mentre la cerchiamo di ampliare ancora un pochino gli albi li potremo piazzare lo stesso e poi al massimo li spostiamo non è che eh allora prendiamo questo vai quella è la no non lo specorei troppo lo faccio io brava specoreo tu e così si trovi qualche alberello ce l'abbiamo c'è qualche altro occhio però se vedi qualcosa di arancione ma pare di no ce n'è uno solo ok ne prendiamo un altro e lo piazziamo tipo qua per ora più o meno anche se sono vicini l'importante tutto che ce ne ho messo ancora altro di chi non l'avevo questa l'ho già presa si ci sta va bene non me lo ricordavo e ok facciamo nascere anche questo via perché lo specorei troppo perché? perché lo volevo specoreare un po' meno ma va bene li recintiamo questi alberilli vediamo e quindi incavoli se ti arriva un creep e ti esplode sopra? si questo qua niente almeno uno ci senti quando uno ripianta almeno uno lo vorrebbe si aspetta fammi fare un altro giro di di dirt qui ok si si fai fai vado a prendere un po' perché a me sinceramente il fatto di questa fia a tappeto non mi piace no qui comunque sistemiamo ancora un po' perché non mi piace molto questa zona questo lato qua che è molto molto brutto quindi sistemiamo ah e comunque adesso andiamo a cercare degli animali degli animali? si voglio delle galline voglio una mucca va bene se non fosse che anche a me dispiace il fatto di dire facciamo una farm di maiali se uno li fa copiare poi li ammazza sarebbe comodo poi mi dispiacerebbe mi dispiace uno li vede piccini puoi ammazzarli si si dispiace anche a me come idea se c'è un tronco più piccolo è ovvio che potrebbe fare un po' meno di rabbera alla volta perché c'è meno spazio io comunque un recintino intorno ce lo farei quando avremmo fatto in modo più sensato questi alberelli della giusta dimensione lo facciamo che vuol dire della giusta dimensione? messi bene non così a caso lo sto facendo un pochino a caso finiamo di fare tutta questa zona qua togliendo un po' d'acqua qui davanti e lo facciamo bene per ora cerchiamo di sfruttarli più possibile l'utile degli alberelli che poi uno non usa si si però è meglio se li scicondiamo si si quello poi io do la micro perché mi mangiano un beccia no sistemiamo tutto allora rifacciamo l'alberello lo mettiamo qua si va bene e là un po' più alto questo si bellissimo ciao ciao ma gioca da solo? eh probabilmente dice può darsi se ti stai chiedendo questo affare se non volevo toglierla l'albero fai per glielo offriamo fai per conto tuo e ci scriviamo o vuoi fare vuoi sentirci su su chiesse ok no vi sembra giusto offrire la possibilità poi uno magari ha voglia di stare per i fatti suoi però se uno c'è volevo metticela alla terra perché non mi piace quella roba ok se ci si becca ok e la prendiamo no un pochino ce l'ho perché stavo facendo oh mi dai gli alberelli sto cosco non è che ne diamo tantissimi no è però è già qualcosa allora qui cerchiamo di sistemare qua volevo tappizzare un po' qua perché non mi piace ho tappizzato anche qui perché non mi piace l'idea di averci questa dirte perché non c'è quello chi ha preso tutto da mia ceste noi no di sicuro non pensi cattiva lo sai allora non per essere un po' fetti di però io un dubbio ce l'avrei noi non accusiamo nessuno no non siamo perché perché lo sapete vai scrivi tu che ci vuole un query ho scritto quarry no quarry come hai scritto quarry quarry due ore ok qui ci prendiamo un pochino di staccasupola che va andrà un po' migliorata poi intanto adesso perché la mette le ceste accanto eh ok questa qua è la montagna per salire non voglio togliere tutta la possibilità di salirci qui e dobbiamo evitare che qua dobbiamo fare fare un passaggio tutto di vetro qui sopra per evitare che comunque ci scada qualcosa dentro ho in testa sì 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 ok anche secondo me e ti ricordati anche che dobbiamo andare a caccia di animali 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 e ora c'è una fattoria iai iai io ok la notte sta per scendere di nuovo quindi buono sapesti vediamo se riusciamo allora a sistemare un po' io di diretto ora ce ne ho due stack praticamente e che ora me lo dici? l'ho presa adesso l'ho presa adesso cioè la mucca miau mucca miau non credo mucca miau cioè il cane miau ma non credo c'è la gallina miau ah non credo tu ti faccio un miau accidenti c'è il maiale miau ah che eccenta ok qui c'è un pezzettino no sembra di non avere niente senti ti do un pochino di terra tieni ti do uno stack e vai grazie e poi lo finiamo di sistemare la notte quindi ah già c'è un problema ora c'è Nabba quindi Nabba è un problema ora glielo iniziamo a chiedere allora cioè l miau l miau l l l sei 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 sono un gatto miau c'è Chiria miau Chiria miau poi sistemiamo bene 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 Chiria impazzita miau impazzita siamo strani anche noi hai mangiato ma come che tu mangi un sacco non vedo mai che cosa mangi ma in questo momento hamasso qualche mela ehi mela buona mela no non rompere le scatole buona mela zuccherata ah sei tu che stai scavando sì amore no non sto scavando in realtà vabbè ho capito ho capito volevo impazzire la zona perché mi viene una claustrofobia sì anche io voglio fare questa zona bella larga così ci possiamo partinare con le rotelle rollerblade rollerblade rollerblad qui non c'è altro direi che andiamo a nanna andiamo a nanna anche lui voleva chiederci qualcosa un favore tica ok andiamo a nanna vieni blesse Victory 자신 d invogy quale era il favore Allora, dai, anche questa puntata sta andando bene Abbiamo creato qualche aderello, ammiglioreremo la zona E poi cerchiamo di fare un pochino meglio anche la casa Perché non sta ancora dormendo Vai a nanna Ti sei risvegliata tu Ti sto accattando sulla stomaca Sì, se dormi Chiudiamo La puntata E veniamo Ok, aspetta, quasi quasi Intanto che sistemiamo, mettiamo un attimo a fare qualcosa qui No Vieni a dormire subito Ma Com'è che è esplodo? Dormi, dormi Va a dormire Ciao, ciao, tanto Ok Grazie di stati con noi in questa puntata Mettiamo intanto a finire di fare sta roba Grazie a tutti E alla prossima puntata con gli eternal love in my friends Ciao Grazie a tutti